Eccoci, è martedì e puntuale torna l'appuntamento ormai canonico da quattro anni a tutto handball per esaminare ciò che è stato il lungo weekend su tutti i campi italiani ma partiremo dal raduno in atto della Nazionale che mercoledì a Padova affronta la Slovenia Ben ritrovati da Stefano Ballerini e dalla redazione del canale 196 di Tele Firenze Viola Super Sport, Matteo Cola in cabina di regia Allora, vediamo, è in atto il raduno azzurro perché mercoledì dalle 18.30 alla Chione Arena di Padova l'Italia, qualificatosi al turno dei play-off mondiali che non avveniva, cosa che non avveniva da lontanissimo 2005 va ad affrontare la Slovenia nell'andata del doppio confronto ad eliminazione diretta Dunque, chi vince, intanto è già difficile passare questo turno chi vince dovrà andare a giocare contro la Serbia e sarà un play-off assolutamente altissimo da scalare Dunque, in Veneto ci sono 19 atleti rispetto alla trasferta nord-europea di inizio anno sono da segnalare i rientri di Giovanni Manardine tra le ali di Kresnik casa tra i terzini, tra l'altro qui c'è un errore di battitura, eccolo qua i di Opedisano, pivot, tutti assenti in precedenza perché purtroppo positivi a questo stramaledetto covid 19, recuperato anche di Gian Domenico tra i portieri la new entry, quella di Umbertino Bronzo del 2000 alla destra e di Hendrit Iballi nel reparto difensivo roster come al solito giovanissimo, non superiamo i 24 anni ci stiamo allenando come detto a torri di quarte solo vicino a Vicenza allora andiamo a vedere quelli che sono i convocati Domenico Ebner che gioca da Nofer, San Paolo, Sassari, Di Giandomenico portiere del team campione d'Italia attuale con Versan Leali, Arceri, ex Siena, gioca a Bresalone nel Brixen Nardin, Sassari, Dantino, gioca nel Nava in Spagna Umberto Bronzo del Sassari i terzini e centrali sono Kresnikasa che è andato a giocare dopo Siena a Carpi Mengon del Billière gioca in Francia Mengon gioca nel Sesson Rhin in Francia Bulzamini che gioca in Spagna nel Cueca Bortoli che gioca nell'Istra Provence anche lui in Francia Max Prantner, Alperia Merano, Pablo Marrochi, Cavigal, Nizza in Francia Iballi, Brixen, Savini nel Savigal, Nizza, Francia anche lui molti dei nostri migliori sono a fare ricchissima esperienza in terra straniera tra i pivot Parisini gioca anche lui in Francia nell'Istress Martini gioca nel Merano, Opedisano gioca nel Cavigal, Nizza in Francia il capo delegazione è Marcello Visconti, lo staff tecnico Riccardo Trellini, Jurgen Prantner, Luigi Malavasi, allenatore dei portieri Marco Africano, Match Analyst, il primo turno dei playoff Ucraina, Finlandia, Forza Ucraina, sempre, comunque e dovunque Forza Ucraina Italia-Slovenia, 16 marzo, 20 marzo della gara di ritorno Portogallo-Svizzera, 17 marzo, 20 marzo Grecia, Bosnia e Zegovina, 16 marzo, 19 marzo del ritorno Macedonia del nord, Romania, 16, 20 Slovacchia-Belgio, 16, 19 Israele-Lituania, 16, 20 Annullata isole Faroer, Bielorussia passano le isole Faroer e andiamo a vedere invece quello che è stato il turno di campionato in serie A1 maschile e in serie A1 femminile allora la serie Abreta va alla pausa per la nazionale il Brixen ha riaperto la lotta per il quarto posto questo è il titolo di questa settimana ovviamente ci sono poi tutte le mini cronache di tutte le partite www.fidenzeviolasupersportlive.com la puntata di A tutto Enbo i risultati con ovviamente i propri download se volete andare a vedere i tabellini pigiate il download vi si aprono tutti i risultati e i tabellini di tutte le gare Albatro, Bolzano, 23 35 Conversano, Carpi 33, scusate 34, 24 Castano, Magnago, Secca e Rubiera 28, 27 Merano, Fasano 28, 29 Brixeno, Bressanone Pressano, 24 19 Sassari, Trieste 30 a 25 la classifica è infarcita di Asterischi allora vediamo un po' Fasano conduce a 33 punti tutte giocate con Versano 28 una da recuperare Pressano 27 Sassari 27 una da recuperare Brixen attenzione Bressanone 24 2 da recuperare 2 punti a partita nel campionato di pallamano 24 26 28 ipoteticamente potrebbe andare a prendere il Conversano Merano 20 Bolzano 19 una da recuperare Castano, Magnago 15 Sparer, Eppan, Di Appiano 13 Trieste, 12 una da recuperare Secca, Rubiera 5 una da recuperare Albatro 2 una da recuperare allora andiamo a vedere invece la situazione della 1 femminile dove il Brixen scappa via Pontini accorcia la rincorsa sul terzo posto i risultati con Giovi Salerno Cassano Magnago 32 21 Guerriere Malo Sutti Loll Brixen 26 39 Edice Leno 38 22 Casa Grande Padana Mezzocorona 30 29 Ali Best Espresso Mestrino Pontini 24 33 Cellini Padova Ariosto Ferrara 30 31 anche qui ci sono dei puntini sospensivi Brixen Tutti Loll comanda 31 con una da recuperare Giovi Salerno 28 Espresso Mestrino 26 Pontini 24 Casa Grande Padana 19 Ferrara 16 Erice 16 Cellini Padova 15 Cassano Magnago 14 Leno una da recuperare con il Brixen Malo 4 Mezzocorona 4 Andiamo a vedere la serie a 2 femminile Diamo questa volta la precedenza per dovere di cavalleria Allora Latusce Prato passa a Chiaravalle 34 28 Cade Leromed Mugello contro il Marconi Jumpers 21 18 Per l'Euromed che è leggermente in crisi La seconda sconfitta di seguito Adesso c'è da andare a recuperare la gara a Camerano per addrizzare la barca e rimontare la classifica Gli ultimi turni Allora il 5 di marzo Marconi scusate Euromed Mugello Chiaravalle sconfitta preoccupante interna non preventivata 22 25 Poi in questo turno Marconi Jumpers Euromed Mugello 21 18 Grosseto Mestrino 26 34 Chiaravalle Tusce Prato 28 34 La Tusce prosegue la corsa di testa Camerano Sport insieme non l'ho catalogata allora se mi permettete vado a prendervi i risultati del turno in modo che sistemiamo e lo facciamo parateticamente insieme andiamo a sistemare le cose insieme allora la 2 femminile è questo andiamo a trasterare il girone C allora vediamo quello che è l'ultimo turno e poi vi ragguagliamo la classifica allora siamo arrivati al turno del 12 e 13 di marzo la quarta di ritorno ricominciamo con Marconi Jumpers Euromed Mugello 21 18 già che abbiamo sotto mano anche il tabellino nel Marconi Jumpers 1 di Sandri 5 Contini 1 di Maggio 4 Vercalli 2 di Rainieri 1 di Contini 6 Labassoli 1 di Begotti con i 7 metri 4 su 4 i rigori Euromed Mugello che manda 2 di Simoni 1 della Salemme 7 della Gargani 1 di Crescioli 4 di Gorelli poi abbiamo 1 della Santoni 2 della Tubi con nei tiri da rigori 1 su 1 primo tempo era finito con Mugello in vantaggio 12 a 9 proseguiamo con Grosseto Mestrino 26 34 anche qui abbiamo dei vincervi il tabellino per Grosseto 7 di Fracchiolla 6 della Maccari 5 allora la prima era Fracchiolla Alice poi abbiamo la Fracchiolla Fabiana 5 De Paoli 5 Stafuca 1 Sarno 1 perna 1 gol con i tiri dai 7 metri addirittura 7 su 10 Grosseto ha avuto una marea di tiri di rigore ne ha sbagliati 3 mentre il Mestrino va a mettere 11 11 della Rubin 7 Chiarotto 1 della Ponchio 7 Bakur 3 Galvan 2 Anzillero 2 Veggio 1 di Lucca i tiri di rigore perfetti 100% 7 su 7 primo tempo che aveva già visto il Mestrino avanti all'interruzione per 18 a 12 poi Chiaravalle Tusce Prato 28 34 anche qui possiamo andare ad aprire il tabellino relativo Chiaravalle 1 di Lombardelli 1 della Rivera Ventura 8 della Cipolloni 2 Manfredi 10 Mariniello 6 della Ciattaglia i tiri di rigore 3 su 4 con invece Tusce Prato che manda al referto 7 di Micotti 1 di Rossi Margherita 13 la migliore la Borrini incontenibile 1 della Nicolai 4 della Sandroni 1 della Barbieri 4 della Ilamu 3 della Gianna Bartalucci con i tiri di rigore 6 su 6 primo tempo che era finito con il Tusce Prato avanti di 4 18 a 14 proseguiamo con Camerano Sport insieme 41 23 Ferrara Cellini Padova 47 43 incredibile sono 80 90 gol in 60 minuti di gioco incredibile ma vero allora qui possiamo andare a darvi la classifica in diretto dal sito della Fig Tusce Prato capolista 26 Marconi Jumpers 17 col Ferrara a 16 Cellini Padovas a 15 il Mugello che ha una gara da recuperare a 15 potrebbe andare a 17 e recuperare la seconda piazza seppur al condominio con Marconi Jumpers e Ferrara Chiaravalle 12 Camerano 8 appunto quella da recuperare con l'Euromed poi Mestrino 6 Grosseto 1 Sport insieme meno 3 proseguiamo con la nostra disamina questi li abbiamo messi andiamo a vedere la 2 maschile allora proseguiamo qua facciamo che andiamo a darvi anche i tabellini della a 2 maschile basta seguire ovviamente i vari link della federazione fig.it allora girone A girone B per quello che interessa le squadre che partecipano a questo campionato le squadre toscane andiamo a vedere siamo arrivati qui a dovervi raccontare a dovervi raccontare la giornata settima di ritorno Ambra Poggio Cagliano Follonica 35 a 26 12 di marzo e 13 di marzo assolutamente sì con l'Ambra Poggio Cagliano che manda 11 di Liccese poi abbiamo i 3 di Franca Lanci i 2 di Fratini Andrea gli 11 di Albert Deda i 6 di Alberto Fratini e i 2 di Gianmarco Ballerini il mio omonimo con i tiri dalla piazzola dei 7 metri classici rigore 2 su 3 andiamo al Follonica sconfitta impreventivata con 2 di Didone 4 di Caruso 4 di L'aveva aveva condotto negli spogliatoi per il Teino di Metagari 17 a 11 per cui vittoria dell'Ambra Romagna Bologna United 35 a 21 San Lazzaro Casagrande 29 24 Prato che viene battuto di 4 dal Teramo sconfitto con l'alti onore degli armi per il Prato ne ho promosso con 3 di Biancalani 5 di Simoni 3 di Scrivo 8 di Balò 1 di Pucri 3 di Alime Almadi con i tiri di rigore per il Prato 3 su 6 3 errori pesanti Teramo che vince con 2 di Dargenio 2 di Leodori 4 di Barbuti 7 di Murri 9 di Barbuti Riccardo allora il primo era Barbuti Davide 4 Barbuti Riccardo 9 Fratelli Incontenibili 2 di Camaglioni 1 di Forlini i tiri di rigore 3 su 6 purtroppo sconfitta interna Pratese e proseguiamo con Pescara Cingoli 21 34 la capolista Mani Basse Camerano Campus Italia 33 a 30 Chiaravalle Verdeazzurro Sassali 26 40 qui possiamo andare a darvi la classifica ovviamente aggiornata risaliamo e vi diciamo che conduce Romagna 36 punti Cingoli 35 con Cingoli che però deve disputare una gara di recupero Teramo 25 Verdeazzurro Sassari 25 Chiaravalle 21 San Lazzaro 20 Ambra Poggia Caiano diventa la migliore delle Toscane a 19 Camerano 19 Campus Italia 16 Folloni Caruzzoli che ha 16 punti Pescara 16 dietro ci sono solamente Casagrande 15 Bologna United E3 Prato 0 punti allora questa è la situazione del campionato di A2 noi dobbiamo però andare a risalire la nostra trasmissione di A Tutto Handball perché il secondo titolo l'avevamo destinato in partenza di programma alla Serie B team maschile che noi seguiamo con un'attenzione particolare del Tavarnelle ieri non è stato possibile darvi la diretta mi scuso Tavarnelle che andavano a far visita agli amici alla società gemellata della Torre Pontassieve ci eravamo augurati nel titolo di presentazione Forza Olympic Massa Marittima che riceveva Spezia e l'Olympic Massa Marittima ci sente mi sente batte Spezia facendo un grandissimo favore al Tavarnelle Tavarnelle che vince 37-25 primo tempo 20-12 su WWW Firenze eccole qua queste sono le foto sono un po' piccoline e leggermente appena appena sfocate ma la luce lì alla barruccia era quella che era la Torre Pontassieve che schierava Bartolozzi 3 di Benvenuti Carrai Fagorsi 5 di Ghirlande 2 fratelli Ginanni primo con 2 il secondo con 5 Ilias 3 gol Martelli 5 Panzani 2 Ronchi i due fratelli Ronchi senza gol Scimai Sottani allenatore il signor Nari il Tavarnelle che ha schierato con 14 gol Borgiani i portieri erano Ciani Panti e Vucci Poi Pelacchi senza gol Picciardo 6 Sing 1 Tramuto 2 Magnani 1 Tommy Borgiani il fratellino di Edoardo 4 Bravo Altieri 1 Orselli i due fratelli Calosi Andrea con 1 Lorenzo con 3 Nardi con 4 allenatore Provvedi e Pelacchi hanno arbitrato Palungo e Gismondi dunque vola il Tavarnelle che vince come da betting del pre-gara la gara di Pontaseve alla Balducci 37-25 dodicesima vittoria per la Palamano Tavarnelle che ringraziando l'Olimpica e Massa Marittima noi ce l'avevamo augurato e dunque grazie l'Olimpica e Massa che ci batte lo Spezia e dunque Tavarnelle ha in testa la classifica ma deve recuperare proprio la gara con lo Spezia se la recupererà e vinceremo saluteremo la compagnia cantante ci avvieremo con un anno di anticipo verso la risalita in Serie A2 allora i risultati sono di Carrara Mugello 37-29 la Torre Pontaseve Tavarnelle 25-37 Olimpica e Massa Marittima ecco il risultato che speravamo si potesse realizzare e si è realizzato ma è realizzato 37-31 peccato che il Monte Carlo si faccia battere internamente a Santa Maria Monte dal Grosseto per due soli gol 31-33 avrebbe fatto comoda anche qui la fermata del Grosseto mentre Arete Bastia Umbra batte il 29 martedì il Montemurlo 29-16 Tavarnelle Spezia 22 se la dovranno scozzare con il recupero Grosseto 17 Carrara 15 Mugello 13 Olimpica Massa Marittima 12 Medicia Poggio Cagliano 8 a 6 la rete punti 0 29 martedì Pallamano Monte Carlo che è a meno 3 bello il pareggio infine nel campionato Under 17 femminile Mugello Tavarnelle 26 a 26 è una bella partita le ragazze della triplice di Tavarnelle Tavarnelle Arezzo e Firenze la torre Pontassieve contro le coetane del Mugello riescono a trappare un bel pareggio per come detto in apertura anche qui ci sono le foto eccole grazie per 26 a 26 dunque questo è il nostro racconto di quello che è successo su tutti i campi della Pallamano forza azzurri mercoledì c'è da fare augurabilmente per quello che riguarda la gara interna a Padova il miracolo per cercare di battere perlomeno in casa la Slovenia poi ci sarà il ritorno lì la vedo bigia per cui comunque forza ai ragazzi in maglia azzurra questo è tutto complimenti al Tavarnelle che fa suo il match di Pontassieve continua a volare lassù in cima appena ci sarà il recupero questo sicuramente lo daremo contro lo Spezia perché lì si decide la lotta al vertice Tavarnelle ha con questa formazione voglio dire al massimo delle proprie potenzialità la possibilità di battere Spezia vincere il girone unico e tornare con un anno di anticipo sui due preventivati in serie a due da Stefano Ballerini per questa puntata di A Tutto Handball è tutto grazie a Matteo Cola che mi ha seguito in rivisentazione di tutti questi risultati allora credo che potremo farvi vedere Olimpic Massa Marittima Spezia di cui abbiamo tratto le immagini poi ovviamente informeremo gli amici di Massa Marittima e anche quelli di Spezia finché trasmettiamo così ci vedono anche a Spezia per cui possiamo dare la partita l'appuntamento è a martedì prossimo forza palla a mano toscana e come sempre io faccio così prendo il mio palloncino terzo tempo in elevazione il tiro nell'angolino imparabile ha segnato la palla a mano toscana nazionale forza la mano linea alla regia un'angolino un'angolino